Il principe William avrebbe portato la sua allora fidanzata Kate Middleton in una proprietà vicino a Balmoral, secondo quanto riferito, lasciatagli dalla regina madre per trascorrere del tempo di qualità insieme. Nei primi giorni della relazione del principe William con Kate, principessa del Galles, la coppia si sarebbe divertita a trascorrere del tempo di qualità insieme lontano dalle luci della ribalta in un nascondiglio segreto. I piccioncini, che si sono conosciuti mentre erano studenti a St. Andrews nei primi anni 2000, hanno trascorso del tempo insieme a Tamnagar, un cottage vicino alla tenuta di campagna della famiglia reale Balmoral in Scozia. Durante le vacanze universitarie della giovane coppia, si recavano al cottage per trascorrere del tempo insieme in campagna, lontano dagli sguardi indiscreti del pubblico e dei paparazzi. Sembra che l'umile dimora occupi un posto speciale nel cuore della coppia, poiché secondo quanto riferito hanno detto agli amici che è lì che si sono goduti i momenti più felici. Secondo quanto riferito, il principe di Galles, è stato lasciato dal cottage dalla sua bisnonna, la regina madre, poco prima di morire. Tuttavia, L.A.P. ha riferito lo scorso anno che Tamnagar è di proprietà della Crown Estate con Kensington Palace, confermando che è affittato a terzi. La Crown Estate, che possiede proprietà per un valore di oltre 14 miliardi di sterline, è terra e proprietà di proprietà del sovrano, ma non in possesso privato di Re Carlo. La casa con tre camere da letto è immersa in una tenuta di 50.000 acri e circondata dal verde, il che la rende il luogo perfetto per godersi pace, tranquillità e privacy. La proprietà è anche vicina a un'altra residenza reale estiva, King Charles Birkall, che si trova lungo il fiume Muick, ed è il luogo in cui il nuovo re e la regina hanno iniziato il nuovo anno. Grazie per la visione!